Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo di hardware che si può collegare al vostro PC per fare registrazioni particolari con OBS Studio. Perché parlo di questo? Perché per esperienza personale ho avuto la possibilità di registrare più conferenze, nello specifico i vari Linux Day a Pordenone e le conferenze di Open Design Conference sempre a Pordenone e almeno le ultime due le ho registrate io. E poi una manifestazione che ho fatto a Padova per conto dell'associazione IHF e la manifestazione si chiama IHC e l'ho fatta l'estate scorsa, cioè estate 2018. E già vi annuncio che la manifestazione verrà replicata nell'estate del 2020. Allora la prima cosa che vi dico è che in una stanza dove c'è un talk di qualcuno che sta parlando ci sono delle sedie e c'è il tavolo e i relatori che stanno parlando. E quello che è interessante è che si vorrebbe prendere anche i relatori, non solo le slide del proiettore. Allora io potrei anche prendermi un semplice portatile, metterlo in fondo alla stanza e rialzarlo in modo che sia sopra tutte le persone che stanno guardando il talk, diciamo. E l'ho la conferenza come volete chiamarla, però non verrebbe una buona registrazione. Allora la cosa che si fa e che ho fatto io è prendere una videocamera digitale con un'uscita HDMI e collegarla tramite un cavo HDMI. Eccolo qua, ce l'ho in mano, ve lo faccio vedere. Cavo HDMI, io vi consiglio di non avere un cavo più lungo di 5 metri, perché se è più lungo il segnale si perde, bisogna avere un apparecchio che si chiama ripetitore di segnale e che costa. E quindi limitare i costi è sempre bene. Quindi questo cavo, ok, e come si riesce ad arrivare vicino al PC con il cavo HDMI, ma nello specifico, la maggior parte delle videocamere hanno la presa femmina micro HDMI. Invece io vi ho fatto vedere che questo cavo è HDMI HDMI. Allora la soluzione che ho trovato è questo cavo qui, che è micro HDMI maschio e HDMI femmina. Così riesco ad attaccare la femmina, lo sto facendo da sotto, non lo vedete, ma lo sto facendo al cavo, ok, vedete questo è il collegamento, e questa parte qui la attaccate alla vostra videocamera, ok. Vi portate più vicino possibile con questo HDMI qua al PC. Perché ho detto più vicino possibile? Perché in teoria voi potreste anche avere una scheda di acquisizione HDMI, ma costa tantissimo. Allora, la cosa da fare è avere questa scheda qui, catolina, che fa l'acquisizione sì in HDMI, perché di qua c'è l'HMI in, e uno out, attaccate nell'in la vostra videocamera, e poi praticamente c'è il cavo della videocamera, quello l'HMI lungo che avete tirato, dall'altra parte, oh, magicamente è USB, quindi c'è il cavo in dotazione corto USB-USB, e nel vostro PC vi basta entrare in una semplice USB 3, perché questa è blu, quindi è USB 3, e vi consiglio di attaccarvi all'USB 3, così non perdete segnale. E con questa scatoletta, che ve la faccio rivedere come marca e modello, perché se volete prendere questa e ve l'ho testata funziona, registrate in full update fino a 60 fps, perché per una conferenza non servono i 60 fps, quindi questo è il primo hardware. Poi la seconda cosa che si registra in una conferenza, cos'è? Il proiettore. Però, il proiettore lo volete vedere bene, perché se voi usate nel videocamera e fate lo stesso giro che vi ho spiegato prima, invece di riprendere i relatori, riprendete il proiettore, ci vede malissimo, perché non è ben definito il video. Infatti voi adesso state vedendo dietro di me uno schermo con il mio logo e due, tre icone, ma voi non riuscite a leggere come c'è delle tre icone, anche se lo avvicinassi con la ripresa, non verrebbe comunque così bene che riuscite a leggere le scritte delle icone. Quindi la soluzione è riuscire a registrare sempre con questa scatoletta di prima, cioè averne un'altra e farvi arrivare il segnale. Allora, come funziona questa cosa? Che di solito il portatile ha l'HMI, o la maggior parte dei portatili hanno l'HMI, escono in HDMI e andrebbero direttamente nel videoproiettore. Io ho detto andrebbero perché questa scatoletta magica che è un HDMI splitter, in entrata si prende il segnale che voi avete tirato fuori dal portatile, per intenderci chi ha l'HMI supportatile può usare l'HMI per un secondo monitor. Magari in quel momento lì non ha il secondo monitor, ma con il cavo vuole mandare il segnale al proiettore, invece non lo manda direttamente al proiettore, lo manda a questa scatoletta qui in input, in output, sempre con il cavo HDMI, un output va al proiettore e un output va a questa scatoletta qui che ve la faccio rivedere per l'ennesima volta e ve la portate in USB nel vostro computer. Quindi avete due USB 3.0 che acquisiscono il segnale delle vostre due HDMI. Montato tutto prima di accendere OBS, soprattutto accendi il video proiettore, accendi il computer, accendi la videocamera, punta la videocamera con il suo visilino aperto, schermino, metti la da giusta, ok? Tutte le perifeliche sono già accese, allora si può aprire OBS e dirgli cerca le fonti, l'HMI del videoproiettore, cerca l'HMI della videocamera e si possono fare i montaggi delle varie scene dicendo voglio la videocamera piccola, correlatore in piccolo, voglio la videocamera correlatore in grande e viceversa e vi faccio le mie scene, come ho spiegato nello scorso video che parlavo di scene. Ok, queste sono le informazioni che vi ho dato e un'altra cosa che posso dirvi è che l'audio invece, io ho parlato del video, sappiamo che l'HMI porta anche l'audio, ma la videocamera che riprende il relatore, in solito sta alta e dietro ha tutta la fila di serie dove ci sono le persone che stanno guardando la conferenza, quindi sicuramente non mi metterei a prendere l'audio da quella videocamera perché sarà lontana. Allora una cosa che faccio, che ho fatto io, è o dare ai videocamera dei microfoni, e quindi parlano col microfono, il microfono lo faccio passare per un mixer e il mixer lo faccio arrivare al pc, ok? E questa è una cosa. E questa si può fare, adesso potrei anche farvi vedere un mixer particolare, cioè ve lo tiro fuori subito, ve lo tiro fuori subito, allora il mixer particolare è questo qui, adesso lo tiro un po' su, ve lo sposto un po', sto staccando un po' di prese per farvelo vedere meglio, questo mixer qui, vabbè lo vedete un po', non vi serve vederlo tutto, intanto è un mixer normale, vi basta che vi do la marca, e voi lo vedete e capite cos'è e come funziona, è un mixer che a sua volta è anche scheda audio, perché collegato via USB diventa scheda audio, ed è un Yamaha MG10XU, ok? Lì vi fate passare l'audio dei microfoni, ok? Che siano col filo, che siano senza filo, allora la mia esperienza è che quelli col filo sarebbero fighissimi, perché? Sto dicendo col filo, magari qualcuno dirà, ah Ivo vuole quelli col filo, perché si sente sempre bene perché c'è il filo, invece quelli senza filo io ho notato che anche se uno si sbatte per giorni a testarli, per vedere che le frequenze siano magari diverse, se ci sono più sale o altre cose, poi quando vai lì non capisco mai perché, ma le frequenze intanto non prendono e la base con il microfono parli e fai una figura da pagliotto, quindi non sono ancora riuscito a usare bene i microfoni senza filo, ok? Poi soprattutto quelli ad archetto, così, sono, non so il termine tecnico, comunque sembrano troppo potenti e quindi cosa succede? Che ti avvicini alle casse perché comunque dovrai amplificare un po' l'audio e fanno l'arsen e fischia, quindi un microfono col filo e il son di tutto, ok? O in alternativa si può usare un buon microfono come questo che adesso vi faccio vedere qua che lo sto tirando giù, ok? Adesso ve lo allungo così e ve lo giro anche, così vedete bene che cos'è? È un Rode, Rode NT USB, sempre collegato USB, cioè io collego tutto USB, cioè questa mania che non mi collego via HDMI direttamente sul PC oppure col cavi RCA, Jack nel PC, no no anche l'audio me lo prendo con questo, questo microfono qui ha anche il suo treppiede quindi può stare in alto, è messo più o meno così, ok? Ce lo mettete alto così, ok? E se volete fare una cosa veramente fatta bene, nella sala avete già dei microfoni da tavolo per amplificare l'audio in sala, ok? Perché l'amplificazione dell'audio in sala a volte può esserci, ok? I microfoni da tavolo sono quelli con la base, l'asta che fa un po' la curva. Allora cosa faccio io per comodità? prendo questo microfono e lo sbatto sotto in modo che, guardate, questo è il mio dito che fa il microfono Rode NT USB e l'altro, quello da tavolo va su e viene così, in modo che io sia costretto comunque a parlare sul microfono da tavolo della sala. Sotto c'è il mio microfono che prende il suono lo stesso, quindi il relatore si sente. Questo è un metodo che può essere utilizzato quando sappiamo che il relatore non si alza. Allora, come faccio a fare in modo che il relatore non si alzi? Spesso il relatore ha bisogno di alzarsi perché deve semplicemente puntare su le slide e quindi con la mano o con una bacchetta si alza, fa così e punta sulle slide. Invece, fornendo un puntatore ottico laser, diciamo, il relatore può stare seduto e con la mano pigiare e far segnare i punti che gli interessano delle slide. Allora in questo modo qui riesco a farlo stare seduto e utilizzare il microfono. Diciamo che il microfono è anche potente il mio e quindi il relatore teoricamente potrebbe alzarsi e potrei riuscire a sentire il suono parlato del relatore. Però siccome il microfono è panoramico, questa è una chicca che vi do, lui perde tutto, quindi anche quelli in prima fila che magari è quasi mezzogiorno e stanno uscendo che hanno un pacchetto di patatine. Ok? Allora, per evitare che si prendano questi suoni che dovrebbero essere comunque un po' più bassi, nei video tutorial precedenti io vi ho spiegato che c'è la possibilità nell'audio di usare certi effetti e c'è una specie di filtro che taglia i suoni troppo bassi. Allora, se ho tagliato i suoni troppo bassi sicuramente non prendo la persona che sta seranochiando le patatine, ma se il relatore si alza, quando abbasserà un po' la voce, perdo il segnale della sua voce, quindi non lo sento più o lo sentirò a scatti perché parla basso e quindi non lo sento, ogni tanto non lo sento. Ecco. Così io vi ho illustrato in maniera molto spicciola, tutto l'hardware che si può collegare a OBS per registrare una videoconferenza. Per questo video tutorial è tutto.